Due zone della città adottate dai volontari di Sciacca Pulita e Friders for Future. Iniziativa promossa in occasione della Festa dell'Albero nell'ambito del progetto di forestazione urbana finalizzato a promuovere politiche di protezione del suolo, miglioramento della qualità dell'aria e della vivibilità delle aree urbane. I volontari saccensi avevano chiesto nello scorso mese di ottobre all'amministrazione comunale la disponibilità delle aree di cui prendersi cura, con spese di pulizia e successiva piantumazione a carico delle associazioni e con interventi da concordare con i competenti uffici comunali. Solo nelle scorse settimane è arrivata la risposta positiva dell'Aggiunta Valenti, che ha concesso l'aiuola della zona di Gaia di Garaffe allo stazione e l'area sotto la piazza Angelo Scandaliato, da dove questa mattina sono iniziati i lavori. A sostenere i costi è il senatore saccense del Movimento 5 Stelle, Rino Marinello. Questa mattina operaia lavoro per la pulizia della zona e la potatura del verde. Il mezzo necessario alla raccolta del materiale è stato fornito dalla ditta Bono, così come concordato con l'amministrazione. Sciacca Pulita e Fridays for Future hanno dunque adottato queste due aree della città e se ne prenderanno cura nel tempo, provvedendo in località Stazzone alla collocazione di piante e fiori per abbellire l'aiuola. Un valido esempio di cittadinanza attiva, quello che arriva dall'associazione che già da anni dedica le proprie domeniche alla pulizia delle aree più degradate della città.